L'incidente è oggi, sabato 30 giugno, poco dopo le 14.30, sulla provincia Leuno della Mandria a Venaria Reale. Una jeep si è scontrata, pare frontalmente con una Fiat Panda, ed entrambe sono finite fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Venaria Reale Torino e la croce Reale Venaria. Sulla jeep c'era un padre con la figlioletta, di Torino, rimasti illesi, anche se la piccola, uscita da sola dal mezzo, è rimasta sotto shock. Ferite le due ragazze che si trovavano sulla Panda e che sono state estratte dai vigili del fuoco. Al momento i sanitari del 118 le stanno stabilizzando, pare che una di esse sia in serie condizioni. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Grazie. Grazie.